Buongiorno a tutti, benvenuti a questo tour virtuale dell'Istituto di istruzione superiore Volterrelia di Ancona. Do il benvenuto in particolare agli studenti, alle studentesse che faranno questo tour virtuale perché hanno intenzione di iscriversi a questo istituto per il prossimo anno e sicuramente avranno la possibilità di approfondire nel dettaglio tutti gli aspetti dei vari indirizzi che verranno esposti dai docenti appunto delegati all'interno dei vari laboratori e delle varie aree di questo istituto. Sono Giovanna Battistini, insegno informatica nel Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni del nostro istituto e sono anche la coordinatrice del Dipartimento. I ragazzi che vengono a frequentare il nostro indirizzo si preparano ad entrare nel mondo del lavoro quello delle ICT, quello comunemente chiamato ICT, ovvero si occuperanno, se scelgono l'indirizzo di informatica, principalmente di applicazioni informatiche, siti web, sviluppo di programmi specifici, database, mentre i ragazzi che scelgono l'indirizzo di telecomunicazioni avranno un orientamento forse un po' più pratico sia nelle attività laboratoriali a scuola che poi nella scelta lavorativa successiva, perché invece si andranno ad occupare più dell'aspetto più tecnico delle reti o delle telecomunicazioni, quindi se noi pensiamo ai ponti radio, chi è che va a progettare un ponte radio? È un telecomunicazionista, così come invece chi progetta un'applicazione web o un sito, che potrebbe anche essere un sito di quelli famosi di e-commerce, dietro ha sicuramente dei programmatori, degli analisti che si sono formati in questi settori. Chiaramente non si va subito a lavorare, si può anche con il nostro indirizzo essere preparati per affrontare l'università, le università tecniche o gli istituti tecnici superiori e quant'altro. Salve, sono Giuseppe Corinaldesi, insegnante di informatica, di laboratorio di informatica presso questo istituto oramai da circa 35 anni, quindi ho una notevole esperienza. In questa scuola, in questo ambiente che è l'ambiente laboratoriale, noi insegniamo ai nostri ragazzi la programmazione, cioè come istruire un calcolatore a compiere delle cose. Considerate che l'istruzione di un calcolatore comporta la gestione dei codici di programma e quindi è un lavoro abbastanza importante. Questa programmazione sarà poi sviluppata sia per applicazioni stand-alone, cioè per singole macchine, per pc, oppure per app di cellulare e quant'altro, sia per comunicazione e gestione di comunicazione a distanza, per cui potremmo trovarci a creare delle applicazioni web che gestiscono magari basi dei dati, come ad esempio posso dirvi, non so, la prenotazione di un volo aereo, la prenotazione di una vacanza, eccetera, 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 cioè ci sono il mondo dell'informatica che raccoglie campi in, diciamo, molto ampi, spazi in campi molto ampi. Detto questo, poi ci occupiamo oltre che della programmazione, un tecnico informatico si occupa anche della costruzione di reti di calcolatori, per cui ci preoccupiamo di come dialogano le macchine tra loro a livello, diciamo, basso, cioè a livello di rete effettiva dei calcolatori, sia locali, rete quindi cablate localmente, che cablaggi a distanza, per cui si occupa di come un cellulare dialoga con un'antenna e arriva magari a prendere informazioni da un qualsiasi calcolatore locale. È una bellissima specializzazione, è ovvio che comporta un impegno di lavoro e di studio, non indifferente, perché le problematiche da affrontare sono parecchie. Grazie per l'attenzione e spero di incontrarvi in questa scuola. Spero che questo tour virtuale sia stato per voi interessante e vi abbia sicuramente aperto le idee su quello che sarà il vostro futuro e comunque buona scelta qualunque essa sia.